mi possiate sentire bene. Buonasera a tutti, mi fa piacere che siete qui, abbiamo due ospiti, come dicevo, molto importanti e soprattutto trattiamo di un argomento che sta condizionando pesantemente la vita di tutti noi. Oggi io ero, insomma, fino a poco fa in università dove ospito una visiting professor che proviene da Nipro nell'ambito del programma di collaborazione Science for Ukraine che l'Università di Torino ha sviluppato con l'Ucraina e mi stava raccontando di una situazione veramente tragica e difficile, che veramente è qualcosa che forse è difficile persino immaginarsi per noi che siamo qui. Quindi credo che il fatto di comprendere sempre di più quello che sta succedendo e perché questa cosa sia sviluppata sia fondamentale. Per cui non posso che essere onorato di avere qui con noi le due ospiti di questa sera, Elena Kostakovich con il suo libro Nella mente di Vladimir Putin, che credo sarà di grande interesse a sentire, edito dalla nave di Teseo, che forse affronta, insomma, senza molti fronzo di quello che è oggettivamente un atteggiamento molto aggressivo da parte della Federazione Russa che si è sviluppato recentemente, ma che forse ha radici ben più antiche. Poi abbiamo quella che credo che sia la più importante analista della Russia che abbiamo in Italia, c'è la dottoressa Anna Zafesova che credo molti di noi conoscano per leggerla sui giornali, in particolare sulla stampa. Quindi questo è veramente un piacere averle qui con noi, magari poi lascerò a Donatella Masia dire due parole in più sulle nostre autrici. Quello che mi preme dire è che per fortuna stiamo vedendo che il nostro governo non ha, nonostante varie pressioni, modificato il suo atteggiamento nei confronti del conflitto russo-ucraino, con un supporto all'Ucraina nell'ambito della Nato, quindi diciamo che sta mantenendo una linea molto chiara che era anche quella del governo precedente e per questo insomma sicuramente siamo molto favorevoli a questo tipo di atteggiamento da parte del nostro governo, in particolare bisogna darne atto della Presidente del Consiglio che è stata quella più ferma su questo punto. Quindi da questo punto di vista sicuramente noi come Associazione Italia-Israele non possiamo che essere assolutamente favorevoli a questa linea tenuta dalla Presidente del Consiglio in questo momento, nonostante purtroppo varie pressioni differenti di tanti partiti politici, sia della maggioranza che fuori, che davvero non sono così limpide e non sono così nette. Per cui questo ci tenevo insomma a dirlo come posizionamento anche politico su questo tema da parte nostra. Lascio a questo punto la parola brevemente a Donatella Masiaki per introdurre due autrici. Grazie al nostro Presidente Dario Peirone. Io prendo la parola brevissimamente solo perché il nostro nome tutelare Deus Ex Machina, Angelo Pezzana, è senza voce. Quindi io del tutto indegnamente faccio la sua voce in questo momento. Onore alle nostre signore perché mi piace dire che sono due donne coraggiose perché hanno preso delle decisioni non facili, cioè di lasciare la loro vita di Kiev, della Russia, di andarsene e a un certo momento di lasciarla del tutto, lasciarlo del tutto quel mondo, il che evidentemente non è facile, soprattutto senza mai perdere il loro impegno sia in patria sia nel nuovo mondo che hanno acquisito e dove vivono. Entrambe sono in Italia da molti anni, vivono a Milano, in famiglia, quindi si sono stanziate assolutamente nel nostro paese e è con grandissimo interesse che stasera presentiamo questo libro, che tra l'altro si legge rapidamente, quindi invito tutti assolutamente a comprarlo e a leggerlo. Perché? Perché in questo libro sono spiegate delle situazioni che è necessario conoscere per capire l'avversario. Noi siamo abituati a ragionare con i nostri metri di valutazione, con i nostri metri di giudizio, con la nostra storia, con le nostre concezioni storico, filosofiche, sociologiche e così via e non abbiamo la minima idea di quello che frulla non tanto nella mente di Putin oggi ma di tutto quello che è frullato fino adesso perché Putin si presentasse oggi nel modo in cui si presenta al mondo. E devo dire che parlando oggi con colleghi non in università ma negli uffici giudiziari dove io opero, quindi magistrati, avvocati eccetera, ho scoperto che molti, tranne pochi che per loro diletto si occupano di storia, di filosofia e approfondiscono le tematiche geopolitiche, pochi per esempio avevano la nozione della nuova cronologia che ho capito leggendo quanto importante è per comprendere poi tutto il resto e quindi l'ha afflato di Putin a riconquistarsi il mondo sostanzialmente, il mondo che lui ha costruito come quello che fosse una volta della Russia, se l'ha inventato lui in base a tutta una serie di costruzioni filosofiche, storiche, diciamo distorsioni, forse la parola migliore. Quindi non faccio perdere tempo ulteriore, dico solo che veramente è un incontro fondamentale e vado anche al secondo incontro fondamentale che ricordo e che invito a non perdere, che ci sarà il 14 dicembre sempre in questa sede, credo alle 18, alle 18.30, non lo so, comunque l'orario sarà da controllare per chi è interessato, spero tutti, con Maurizio Molinari che presenta il suo ultimo libro, quello sugli imperi e chiudiamo sostanzialmente l'anno con due incontri importantissimi, questo è quello prossimo che vi ho ricordato e ci faranno riflettere su quello che è il mondo, come oggi ci si presenta, come probabilmente dovremmo affrontarlo noi e le nostre famiglie, il nostro mondo, il nostro ambito sociale, familiare nei prossimi anni. Quindi vi ringrazio, mi dispiace che Angelo non possa dire qualcosa ma magari la dirà dopo, spero che nel frattempo la voce si irrobustisca e tu possa fare domande brucianti, però adesso lascio lo spazio all'autrice, cioè Elena Kostiukovic, che interloquirà con Anna Zafesova, che è il nostro diario quotidiano, direi quasi, nel senso che informazione corretta non perde mai di pubblicare un pezzo di Anna Zafesova, perché è fondamentale. Se non si legge la dottoressa Zafesova non si capisce un picco secco di quello che è il mondo di oggi per quanto riguarda Putin, la Russia, ma il mondo sostanzialmente. Quindi onore al signore e le invito a venire qui, a posizionarsi vicine, a parlare una per volta perché siamo in Zoom e quindi le registrazioni devono essere ben distinte. Grazie, grazie. Vanno bene queste due sedie? Sì, 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 vanno benissime. Ecco io ci sono. Ci sono soprattutto dopo questa definizione molto esaustiva del mio lavoro, che ti ringrazio molto. Allora, io mi trovo leggermente in difficoltà, perché innanzitutto io e Elena ci conosciamo da 30 anni, quindi tutto quello che avevamo da dirci su Putin, Russia, ci siamo più o meno già dette. E anche litigato, ti ricordo? Anche qua, non ho litigato, no, però ho discusso animatamente, sì. E poi siamo entrambe, nel senso che siamo quelle persone che ha le quali ultimamente, anche prima, ma negli ultimi, non ce l'ho detto tutto, perché ho chiaramente il libro di mezzo. Io, per quanto riguarda, quando me lo chiedono, o quando anche la stampa di Torino mi chiede, fai un pezzo scuro che c'è la mente di Putin, uno, non lo so, due, non lo voglio sapere, anche perché ho sospetto che la mente di Putin non ci sia niente di straordinario e che ogni volta che noi parliamo della mente di Putin lo trasformiamo in quel cattivo da romanzo, in una sorta di Darth Vader o di Lord Voldemort e tutto sommato, è qualcosa che gli fa piacere, è qualcosa che va a suo vantaggio. Ecco, e Elena ha fatto il contrario, ha scritto ben un libro su quello che c'è dentro. Quindi adesso proviamo a ragionarci insieme, però io vi invito fin da subito a farci delle domande o delle osservazioni, insomma, a guidarci un po' in questo percorso, perché appunto conoscendoci molto bene e conoscendo purtroppo molto bene l'argomento della famigerata mente di Putin, rischiamo un po' di, come dire, o di diventare troppo noiose per voi, oppure di dare per scontato delle cose che invece scontate non sono. Infatti Elena Kostikovic ha scritto un libro proprio per spiegare delle cose che magari al lettore italiano, al lettore europeo sfuggono. E quindi io inizierei a chiedere a Elena proprio questo, come mai c'è stato questo bisogno di spiegare cosa c'è nella mente di Putin? Non c'è il rischio che a dedicare a Putin, perché se entrate nelle librerie c'è una marea di libri su Putin, alcuni dei quali francamente ageografici, alcuni dei quali scritti da persone che non sanno nemmeno da che parte si trova la Russia o l'Ucraina. Quindi è un argomento in qualche modo anche pop. Non gli facciamo un favore se dichiariamo che vogliamo entrare nella sua mente? Hai ragione, naturalmente. Più parliamo di questo vampiro, più lui nutre del nostro interesse. si nutre, perché ovviamente tutti lo dicono, quelli che lo conoscono, quelli che lo seguono, che è una persona con un grossissimo complesso di inferiorità, di superiorità, allora più presti attenzione a lui e più si gonfia. Però questo è un ragionamento generico psicologico. In realtà rimaniamo sui livelli, inviterei tutti di rimanere sui livelli culturali e politici. Quindi prima di entrare nel cuore della faccenda, volevo dire due cose che si possono e devono dire solo in questa sala e una cosa che è necessaria dire in questa città e un po' di cose che sono legate al giorno d'oggi. Quindi voi sarete in questo senso trattati come pubblico esclusivo. Allora, in questa città io voglio dire che i miei nonni sarebbero molto contenti vedermi nell'associazione di amicizia con l'Israele, perché anche io sono stata molte volte in Israele a trovare i miei parenti, a trovare la mia famiglia nell'Iad Vashemma. Nove persone della famiglia sono state fucilate a Kiev, a Babi Yar, lo stesso posto che voi sicuramente conoscete, immagino, dove è arrivato un missile di Putin, cioè della Federazione Russa, ai primi giorni della guerra, che è un trauma per qualsiasi persona che ha questi ricordi in famiglia ebraica, di tradizione, non di tradizione, ma di memoria ebraica. E per Zelensky, come a me, non è, penso, stato piacevole vedere questa, diciamo, questa lotta anche contro i simboli. Poi volevo dire un'altra cosa, sempre qua in questa sala, che grazie a Angelo Pezzana, che questo libro è pubblicato. No, veramente, adesso la storia dell'apparizione, proprio di questo volumetto, all'inizio della guerra, io ho subito scritto, così, di getto, un lungo articolo su sulle letture di Putin, se volete, formuliamolo così, cioè, di che cosa lui ha costruito la sua retorica e la sua propaganda. Mi serviva per parlare con i miei figli, mi serviva non solo per questo, perché io non sono una Rowling che scrive per i figli e poi tutto diventa, io sono professionista di questo passatempo delle scritture, però mi sembrava giusto scrivere, comunque lasciare detto ciò che io sapevo, perché io mi sono occupata parecchio di vari tipi di fantastoria che esistevano in Russia, perché mi serviva prima della guerra, mi serviva perché io, essendo traduttrice dei romanzi di Umberto Eco, un altro omaggio torinese, perché lui, l'Università di Torino, insomma, è legato molto questo nome con Torino, essendo traduttrice di tutti i suoi romanzi in russo, a livello, quando dovevo lavorare con il romanzo Baudolino, che è un romanzo piemontese, quindi, con maggior ragione, ho toccato gli argomenti di come nasce la storia scritta da varie favole che sono raccontate magari anche da persone che vogliono mentire, cioè che non vogliono mentire, ma che capiscono che è necessario raccontare bugie per poi formare un mito di fondazione dello Stato, di una entità politica, di una guerra. Insomma, i miti servono per propaganda. Baudolino è così, lui con Federico Barbarossa gli sta raccontando delle storie che poi lo muovono a fare le guerre, più o meno. Io allora, quando ho fatto la traduzione del romanzo Baudolino, ho pubblicato non solo in Russia, ma anche qua in Espresso, il giornale Espresso, un lungo articolo sulla maniera specificamente russa di alcuni accademici, tra virgolette, perché non sono in realtà delle persone che meritano il rispetto accademico, ma comunque di inventare la pseudostoria. E allora poi ho finito, ma ripeto, in italiano, è per il giornale Espresso. E lì dicevo che queste favole in realtà sono pericolose perché hanno del nazionalismo dentro perché, dico favole russe, paragonandoli con il processo raccontato da ECO, di questa creazione della pseudostoria, che sono fondate sulle bugie enormi e che portano comunque il pubblico a pensare che la Russia sia meglio degli altri stati e meriti una sorte più importante per tutto il mondo. Sono favole pericolose. Questo più o meno era il mio articoletto. Non era l'articoletto perché è lungo, due o tre pagine interna. Ebbè, non lo so, mi sembrava... Io stavo raccontando tutte queste cavolate con un senso di vergogna perché poi capivo che il pubblico in Italia comincerà a leggere e dirà cosa ci importano queste farmeticazioni di chissà quale bugiardo russo che sta raccontando tutto ai russi. Adesso voi vedete a che cosa in realtà ha portato a questa storia, a pseudostoria, perché ha contribuito a creare non più di uno, tanti circoli di cosiddetti pensatori che sono il fondamento della retorica di Putin e la sua cerchia che poi alla fine finisce, in breve, è vero? Dico più o meno le cose che tu sai già, scusami, che finiscono con delle conclusioni. La Russia merita la sorte di il paese più importante del mondo, più grande del mondo, più giusto del mondo, perché la famosa giustizia, tutte le ricerche filosofiche, cioè le cose devono essere giuste. Le cose, risponderei io, devono essere basate sulla legge e la giustizia è comunque molto parziale ed è sempre legata a un arbitrio di qualcuno che dice giustizia, non dico giustizia in tribunale, giustizia oggettiva, spravigliva. Quindi tutto ciò ha formato una grande confusione nelle teste e infatti nelle teste in Russia e poi c'erano dei furbi, secondo me, delle persone politicamente molto astute, con genialità politica, indubbia, che hanno capito che con questa massa di gente che crede di tutto, il contrario di tutto, che crede che ci sono delle verità nascoste, il famoso complotto mondiale, e il famoso desiderio di occultare la verità storica. Allora da questo, usando e leggendo questi libri di cui poi racconto qua, che sono i libri di un gruppo di testi chiamati Nuova Cronologia, Nuova Cronologia è basata sull'idea che una volta c'era la grande Russia enorme, che poi i cattivi europei, io non ho capito però in questo contesto da dove nascono gli europei, se tutta l'Europa era russa, non è molto chiaro da dove sono arrivati i cattivi, però i cattivi italiani d'altronde e Fiamminghi, qui siamo nel 600, 1600, 1600, che d'altronde poi adesso vi dirò, ho scoperto anche perché loro hanno scelto questo momento, non è ovvio, bisognava pensare un po' per capire, loro non lo dicono, ma io capisco adesso. Comunque nel 600 un gruppo di scrittori che si occupavano delle cronache hanno riscritto tutti i libri nel mondo, cioè hanno riscritto l'Iliade, l'Odissea, hanno riscritto la Bibbia, hanno riscritto assolutamente tutto ciò che noi adesso conosciamo e poi ci sono quelle falsità che fanno sorridere perché sono talmente banali, talmente spiccioli che uno dice ma come si può? le hanno riscritti con inchiostro falsificato, non so quale, su pergamene raschiate e qui di nuovo io penso a Baudolino perché nel romanzo Baudolino c'è il discorso di pergamene raschiate dove si scrive un'altra carona e le hanno messe in tutte le biblioteche del mondo portandoci a una disperazione perché noi adesso crediamo alle idiozie che non ci sono in realtà, che non sono fondate e invece Ivan il Terribile è la stessa persona che è Henry Tudor, Henry Cotthard, non lo so, Cristo è nato in Crimea, cioè vi dico, sono fanaticazioni di questa portata, ma poi ho scoperto all'inizio della guerra che lo stava ripetendo Putin nei suoi discorsi fondamentali, che quando lui voleva giustificare l'annessione di Crimea non ha parlato d'altro che nel battesimo, presunto battesimo della Russia che è venuto in Crimea, che notoriamente in realtà è venuto a Kiev, di inganni che bisogna esso in qualche modo far sparire e la verità storica deve apparire e come apparire con la sua attività bellicosa. Quindi più o meno questo è stato il mio cammino e l'articolo lungo che ho scritto è piaciuto a Angelo Pizzana, che mi ha telefonato chiedendo se esiste in forma di libro e ho detto che la casa editrice della nave di Teseo sta ancora pensando pubblicare o non pubblicare in cartaccio perché ci sono troppi libri su Putin. A loro piaceva il mio, ma era solo in forma elettronica, un libro elettronico, però è stato recensito moltissimo. E allora dopo la tua mail loro hanno deciso, era l'ultima goccia e hanno telefonato a me che prepariamo un'altra versione aggiornata. Allora l'ho aggiornata facendola quattro volte più grande. In pochissimo tempo è stata una corsa contro il tempo e adesso voi l'avete aggiornato fino a settembre. E settembre di quest'anno quindi diciamo è molto fresca la parte materiale alla parte storica qui. E finalmente prima di passare di nuovo la parola a Anna volevo brevemente dirvi che cosa io ho visto oggi nei canali di opposizione naturalmente in lingua russa e in lingua ucraina in internet che mi ha fatto pensare che lo devo dire a voi perché ci sono tante cose che voi non sapete purtroppo la stampa italiana non riesce a seguire tutto. Io per esempio ho sentito tutto il discorso di Zelensky che che ha presentato il progetto di fare la successiva Expo nel 2030 a Odessa guardate l'Ucraina è distrutta voi sapete in che stato è non c'è una città con l'elettricità normale immaginatevi tutta questa quantità di queste bombe di metallo di materiale che non deve esserci che è cosparso di tutto è tutto pieno di roba che non deve esserci non si può arare i campi non so da dove arriverà il grano dell'anno successivo quel famoso grano ucraino perché non possono seminare le città sono tutte macerie quello parla del futuro nel 2030 noi faremo questo e quello verranno moltissimi imprenditori costruttori da tutto il mondo nomina proprio i progetti abbiamo questi progetti altri volevo solo dirvi così come Zelensky mi fa un'enorme impressione di una persona che riesce a convincere il suo pubblico perché parla del futuro in un paese assolutamente ucciso in questo momento così quell'altro parla del passato è per quello che io ho tirato fuori Zelensky adesso in questo discorso perché questo libro è come Putin sfrutta il passato che c'è stato non c'è stato non sappiamo correggere controllare quelle farnificazioni queste queste idiocie che sparano ma non solo lui soprattutto la gente che che li sta attorno per giustificare la guerra però voglio dire noi abbiamo due realtà la realtà che è tutta mirata nel futuro e la realtà che con la testa girata come questi mostri che c'erano nei vecchi libri che d'altronde secondo me hanno contribuito a creare questi miti i viaggi degli europei in paesi asiatici sapete che poi tornavano con tutti i racconti delle persone strane lui è questo mostro con la testa girata al contrario lo sta guardando indietro e certo che fa molta impressione Zelensky che invece guarda il futuro ecco quindi diciamo ah sì e finalmente per il popolo ucraino è una piccola cosa ma di nuovo mi ha fatto che contrasto che è scrive qualcuno questo è un social noi non sappiamo cosa fare abbiamo l'elettricità già per 20 ore di seguito abbiamo già lavato i panni abbiamo pulito in casa abbiamo preparato il pranzo i telefonini sono carichi ma diteci qualcosa a chi possiamo dare adesso questa elettricità capito a chi no no è pubblicato un pezzo di un anonimo allora guardate tra una cultura basata su cleptocrazia che è quella russa dove c'è questa corsa al denaro e al rubare ma assolutamente in come dire indecente dove l'esercito non può fare la guerra quello russo perché non ci sono le scarpe munizioni e tutto e meno male lo so ma tu vedi il contrasto non ci fosse la cleptocrazia sì la cleptocrazia che ci sta salvando in questo conflitto l'Ucraina sta vincendo perché quelle hanno rubato tutto ma voglio dire di nuovo una cultura che è basata su raccogli tutto e ruba e l'altra che invece dice io ho troppo elettricità ditemi a chi la posso dare io ho già lavato il mio bambino cioè non so mi è venuta quella docca ed è uno che in semplicità totale lo chiede c'è una persona anonima così queste sono le notizie di oggi Anna Zafiasova d'altronde è nome importante della stampa che è anche questo il giornale di Torino quindi secondo me abbiamo fatto bene che siamo venuti a Torino e abbiamo adesso cominciato o insomma sviluppato un discorso su questo libro ma anche sull'attualità le vostre domande poi saranno molto benvenute ma dirmi tu qualcosa perché se no come ma io molto volentieri aspettiamo sempre le vostre domande oppure più che domande potete chiederci se approfondire un argomento o soddisfare una curiosità perché appunto la gli argomenti sono veramente tantissimi no io mentre ci stavo ascoltando mi è venuto in mente siccome tu hai ripetuto più volte la parola cultura anche in un contesto più negativo di cultura della criptocrazia ed è assolutamente corretto parlare di cultura non soltanto nel senso di opera d'arte ma come cultura relazionale sociale umana eccetera la cultura è stato un grande argomento di discussione in questi in questi mesi sia sia in Russia che fuori dalla Russia cioè molti hanno detto ma come è possibile che un paese di una cultura così grande come la Russia possa aver esibito una cultura brutale di violenza saccheggio invasione aggressione bugia eccetera eccetera dove alla cultura intesa come romanzo come musica come pittura viene contrapposta una cultura una cultura dell'essere e quindi io ti colgo su questa su questa cosa perché chiederti di ragionare proprio su Putin dice che viene l'Occidente cerca di cancellare la cultura rusa perché Putin a proposito di quello che ha nella mente ogni tanto sente delle cose che accadono in Occidente che un po' le spiegano così un po' le capisce lui in un certo modo e quindi si trasformano cioè così può per esempio parla in continuazione dei gender e dei transformer di recente ha parlato dei transformer che poi sarebbero i transgender sostenendo che in in Occidente ormai ci sono decine di sei sì non ci sono più la madre il padre ma genitore uno genitore due cioè tutte quelle cose che sentiamo anche qui ovviamente che fanno parte di un armamentario ideologico ben noto ma che in Russia vengono presentati come verità suprema cioè lui incontra le madri dei soldati che combattono in Ucraina e dice a loro che stanno combattendo anche perché ci siano la mamma e il papà e non il genitore uno genitore due e quindi Putin ha sentito parlare della cancel culture e dice che tutti vogliono cancellare la cultura russa cosa che non è ovviamente assolutamente vera però lo stupore resta cioè la cultura russa sapete che c'è stata la lettera per esempio sulla polemica sulla prima prima di la scala la scala del Boris Godunov che andrà andrà ovviamente in scena però la domanda resta cioè molti si chiedono come mai il paese di Tolstoi e Dostoieschi possa aver generato il soldato saccheggiatore assassino di Uccia è una domanda ovviamente un po' pretestuosa perché possiamo fare la stessa domanda su Gote o su Leonardo da Vinci cioè non è non è quello non è quello il punto però in effetti quello su cui ti chiederei un po' di ragionare perché al di là di quello che nella mente di Putin Vladimir Vladimirov è nato nel 52 a Leningrado e esiste un Putin si è maledetto quel giorno scusa ma come posso farne meno a dire allora io cerco sempre di per quanto faticoso di parlare non di Putin personaggio che appunto è quel grande cattivo ma di quel Putin collettivo perché secondo me nella la forza di Putin non è stata quella di essere diventato come il diavolico genio del male non è il professor Moriarty la forza di Putin è stata quella di essere in sintonia con una buona parte del suo popolo di essere secondo me adesso sentiamo cosa da dire Elena Costiukovic secondo me Putin è il medio il mediocre che è stata la sua la sua grande forza è stato quello che ha trasformato l'uomo che quando è arrivato al potere nel 1999 era un perfetto sconosciuto adesso poi a posteriori viene raccontato molto più in Italia che in Russia come il gran maestro di scacchi del KGB la super spia il capo della Spectre ma era uno capitato lì per caso anzi scelto lì che scelto proprio perché era uno che non aveva i particolari idee il particolare carisma che poi invece i russi in lui questo carisma l'hanno visto secondo me l'hanno visto in buona parte perché appunto si sono riconosciuti si sono riconosciuti anche in questo mix di da un lato si rendersi conto che il comunismo sovietico era stato un fallimento dall'altro di sostituire quell'idea di supremazia con un'idea di pseudostoria di appunto di date manipolate per far credere che Giulio Cesare fosse russo anzi era Pietro il Grande se la memoria non mi inganna cioè quelle pseudoteorie che nascono sempre in paesi in difficoltà in culture fallite in società urtate che hanno bisogno di compensazioni ecco quindi io ti chiederei come persona che ha dedicato la vita a portare tra le varie cose a portare la cultura russa quella con la C maiuscola in occidente in Italia qual è la radice invece di quella cultura che adesso lascia spiazzato tutto il mondo che invece di Tchaikovsky e di Tolstoi vede vede le fosse comuni di Buccia come si combinano come si contraddicono come si alimentano a vicenda non lo so tu sai benissimo che qualsiasi fatto della storia qualsiasi realtà tu cominci della geografia di quello che vuoi in Russia cominci ad analizzare lo puoi far arrivare poi e così è nata la guerra contro l'Ucraina vero? qualsiasi cosa tu tocchi e quindi per rispondere io semplicemente ho l'imbarazzo di scelta io stavo pensando da cosa cominciare e se vi nomino soltanto i fattori non sono convincente così come mi rendo conto ma veramente conviene che voi leggiate questo libro per esempio siamo qui per questo no 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 voglio dire solo che quando vi ho riassunto che cosa è la nuova non ho detto niente sulla nuova cronologia bisogna capire quanti dettagli quanti particolari sono contribuiscono diciamo a questa pericolosissima cosa solo così diventa chiara la sua importanza e la stessa cosa con la mentalità russa cultura russa il fascino russo è molto importante dire comunque che la maniera di ragionare la maniera di pensare occidentale e orientale si diversificano in base a dove prevalgono le emozioni dove prevale la razza e su questo io sono sicura quindi il mondo occidentale per definizione partendo dalla filosofia greca dalla legislazione romana insomma da mille questioni che sono state risolte in qualche modo nei secoli nei millenni e la memoria di tutto ciò ha un bello spesso patrimonio di casi i quali invitano a saperli e ragionare e proprio mettere tutto in sistema più o meno diciamo in Russia l'emozione ha prevalso sempre i caratteri più interessanti nella cultura russa i caratteri che io amo profondamente sono quelli di appassionati virtuosi eroi indistruttibili che potevano essere il famoso arciprete a vacuum per la sua volontà di mantenere la vecchia religione contro quella nuova che stava arrivando che è un'immagine eroica oppure che ne so i poeti poeti della dissidenza che andavano in prigione pur di non dissidenza voglio dire nei tempi sovietici pur di non farsi sottomettere dalla forza oppressiva a far dire bugie e così nota che stai parlando sempre di martiri ma infatti perché la cultura è basata sul martirio hai ragione infatti ti ringrazio e quindi una cultura con altri chi cioè se loro non sono martiri non hanno credibilità la rivoluzione russa ma poi questa piace è la cosa che piace a tutto il mondo perché poi la rivoluzione russa ha portato nel ventesimo secolo anche in Italia degli esempi di tutti questi martiri di tutta l'eroicità la lotta e così è diventata la bandiera anche della resistenza italiana di comunisti italiani che io rispetto con tutto il mio cuore moltissime volte io so che loro non capiscono che cosa stanno citando che cosa stanno rispettando che cosa stanno venerando e che era veramente Stalin queste sono le immagini e per la Russia va benissimo perché la Russia è un paese dove non vogliono spiegare e questo è molto importante spiegare no coinvolgere sì fare un esempio che ne so fare propaganda infatti guardate io ho distribuito un po' oggi è uscito sul libro una bella recensione sul mio libro è quello di Michele Ilcegnino Michele Ilcegnino trova è già l'ennesima volta che lo fa delle fondamenta del pensiero di Putin che non sono quelli che trovo io sono confinanti non litighiamo con Michele Ilcegnino però sono due cose diverse e si può raggiungere anche mille altri perché perché lui non ha nessun pensiero definito perché in questa guerra voi avete sentito del piano forse se non l'avete sentito vi faccio ricordare all'inizio della guerra è arrivato Macron è arrivato Scholz è riarrivato Macron è ritelefonato Scholz insomma tutte queste cose si effettuavano per chiedere amico ma cosa vuoi fare? e lui continuava a dire ho un piano e questo diabolico piano si cercava di capire quale era e lo cerchiamo di capire fino ad oggi solo che il piano era liberare qualcuno va bene non vado avanti perché voi sapete tutte queste idiozie liberare le ucraine delle ucraine russi dai russi oppure difendere cosa difendere? i russi cioè voi sapete che le madri adesso interpellate quelle che hanno mandato i loro figli le madri russe al fronte ora dicono ah certo mi dispiace molto che quello in pericolo anzi è morto mio figlio ma per difendere la nostra patria senza darsi minimamente la fatica di cercare di capire ma chi l'ha offesa questa patria ma tu vuoi difendere contro chi? l'ha nato l'ha nato siamo qua nel cuore dell'ha nato chi di voi voleva andare a fare la guerra contro Putin e questa è una cosa che tu non fai capire al popolo spicciolo insomma non so non vuole offendere ma posso dire che il popolo è in uno stato in cui si fa coinvolgere si fa emozionare ma non si fa convincere nel senso che non ha bisogno di essere convinto non ha bisogno di ragionamenti di argomenti di fondamenti di fondamentali di basare la predica diciamo deve essere accesa e basta e deve essere chi parla deve essere uno sfruttatore parlo in Russia sfruttatore del colossale enorme mito della Russia offesa del risentimento di come non è stato dato qualcosa varie cose non sono state date secondo me sono state date tutte le cose anche la possibilità di liberarsi dalla eredità tristissima di molti secoli di schiavitù è stato dato molto io ho parlato con voi sapete la posizione lui parla moltissimo ho parlato molto in pubblico con l'ambasciatore Sergio Romano che mi ha continuato a convincere sempre è però la Nato l'ha offeso non le ha dato ma guardate se la Nato dava qualcosa a uno così come lo vedete oggi secondo me non era una buona idea non sarebbe stata un'idea vincente io penso che moltissimi interlocutori internazionali della Russia hanno avuto qualche considerazione prima di agire e fare qualcosa allora il piano continua adesso il piano si riduce a Donetsk Donbass arrivare ai confini amministrative della regione di Donbass questo può anche soddisfare e chi è che dimenticherà subito tutto ciò che è stato già fatto e chi dimenticherà il mondo tutto che vive in una neurosi colossale e chi sarà contento se le armi saranno spostate ai confini di Donbass e quindi si avvicinano all'Europa io non so e questa per me è una è una tragedia del nostro pensiero di adesso perché una parte che si basa sulle riflessioni sta parlando con un'altra parte che si basa sulle emozioni lasciandosi anche affascinare dall'enorme emotività e romanticità del grande spirito russo cultura russa l'anima russa e tutto quello che volete non so dove sta quest'anima mi hanno portato una volta non so in un'università che d'altronde è in Alessandria qui in Pimonte come esempio dell'anima russa io dovevo dire che cosa c'è dentro nell'anima io cercavo di spiegare che secondo me deve essere il cervello più che altro e noi dobbiamo cercare di costruire qualcosa insieme non figurare come una misteriosa e invece secondo me nella cultura russa e se quello che tu mi chiedi l'Occidente cerca l'enigma e dell'enigma posso all'inizio il Roberto De Mattei che fa la recensione qui riporta la definizione di Winston Churchill che d'altronde ha preso nel senso che la poteva conoscere senza di me benissimo ma io la cito la Russia è un rebus avvolto in un mistero che sta dentro un enigma allora non è molto facile analizzare quindi per analizzare io ho seguito i discorsi di Putin ho seguito ciò che è stato pubblicato cercando anche i materiali in lingua inglese e italiana per poter essere più per dimostrare e ho riportato questo montaggio di pezzettini che dal punto di vista semiotico un'analisi testuale ci riporta a ricostruire la retorica che si usa è una retorica basata sull'idea che tutti nel mondo sono imbroglioni tutti che non esiste la verità e qui già mi incavolo moltissimo perché mi sembra un'offesa al genere umano dire così e convincere grandi massi di persone di pensare questo di essere cinici di essere sempre sospettosi di cercare sempre un dietro e retropensiero ed è questa che è la grande offesa che si propone al popolo russo per andare poi in guerra e io capisco perché loro lo fanno perché sono stregati ipnotizzati influenzati da questa da queste massa di emozioni che deve essere deve diventare loro e loro sono suscettibili quindi per me è questa la differenza delle culture no? no no io te lo chiedo perché io non è che ho una risposta io non ho una risposta io sono anni che appunto delle persone mi parlano del fascino della cultura russa così romantica di una letteratura così romantica e mistica io ogni volta devo dire che mi viene un po' un brivido perché a parte che la letteratura russa di romantico cioè romantico perdonassi un'altra cosa ecco cioè i romanzi di passioni di amori che sono pochissime finiscono male in un modo veramente drammatico e la letteratura russa è una letteratura politica anche perché per quello che era la storia della Russia era spesso assumeva delle funzioni improprie non sono in disaccordo forse per il pubblico è meglio così no no io figurati se affermo qualcosa sulla letteratura che è il campo tuo e non mio sto solo dicendo che è una letteratura che è stata sovraccaricata di altre missioni per il banale motivo che in un paese dove non esisteva il modo come dire non esistevano le sedie adibite deputate al dibattito politico la letteratura tant'è vero che la letteratura russa viene anche tuttora insegnata e figuriamoci quanto lo era all'epoca sovietica viene insegnata in base c'è tutto un pantheon di scrittori russi che vengono insegnati non in base a quello che hanno scritto ma in base al ruolo politico che hanno avuto loro e i loro scritti e spesso è molto difficile separarli e ricontestualizzarli in un discorso diverso io personalmente devo dire che quando sento parlare di anima russa di spirito russo di particolari spiritualità russa la pistola esattamente no perché guardate è un esperito molto semplice io ho capitato qualche un paio di anni fa una inaugurazione di una mostra su Dostoievski alla Casa Mazzoni a Milano dove i presenti personaggi estremamente blasonati nella nomenclatura culturale russa e italiana parlavano appunto tutti dello spirito russo della di cosa significava essere europeo versus essere russo eccetera io a un certo punto annoiandomi moltissimo mi sono divertita cominciando a sostituire nei discorsi che ascoltavo la parola russo con la parola tedesco e ti veniva una cosa da denunciarli immediatamente spirito russo l'animo russo l'unicità della dello spirito russo c'è tutta una serie di la riflessione se bisognava essere russi o no e cosa significava essere russi c'è una follia nazionalista in altre parole detto detto proprio però nella nella cultura russa come è stata rappresentata sia in Russia sia molto spesso in cattedre di slavistica in in occidente sì ai russi si richiede quel sacro fervore versus la razionale un poco cioè i russi sono un po' sorta di santoni indiani in versione più più politica ecco il che innanzitutto secondo me un po' chiamiamolo un pregiudizio per essere gentili e poi non non corrisponde minimamente alla realtà ma quello che invece volevo volevo chiederti quando tu hai parlato appunto di una cultura molto materialista invece il contrario di questo mito della spiritualità della passione del martirio ma di questa la cultura della cleptocrazia la cultura la cultura del saccheggio la cultura della bugia perché quello che abbiamo visto in questi in questi mesi così come l'abbiamo visto dal 2014 con l'annessione al crime l'emasione del domani così l'abbiamo visto in tante altre occasioni cioè una cultura della bugia della doppia verità della della dissociazione cognitiva dell'appunto di Putin che dice che lui ha un piano che non si capisce quale sia io non sono affatto sicura per esempio che sia il Donbass il Donbass è il piano realizzabile quindi stiamo di nuovo tornando cercando di riportare la situazione a una razionalità che non sono sicura che abiti da quelle parti perché se Putin fosse stato razionale tanto per conciare non avrebbe iniziato iniziato la guerra quindi non lo so non ho non ho delle risposte quello che mi chiedo quello che invece volevo chiederti è quanto quanto ci sia di cultura sovietica e quanto la cultura russa diciamo assorba la cultura sovietica e viceversa perché quello che Putin quello che c'è nella testa di Putin a mio avviso poi l'esperta e l'era Kostykovich è un mix di propaganda sovietica luoghi comuni diciamo di tardo sovietismo chiamiamolo così cioè dove il comunismo non c'è più perché è evidente che il comunismo è fallito e un po' un po' di para un po' di misticismo di santi poeti navigatori e zar cose così che ha creazione di questo pantheon sincretico dove Gagarin affianca Nicola II e Rasputin non so se avete mai capitato di vedere questa meravigliosa foto del cosmonauta nella stazione spaziale internazionale che faceva una comparsata non mi ricordo per quale città della Russia nei Katerinburg forse dove mostrava un'icona che questa città aveva mandato e quindi diciamo faceva un video messaggio al governatore che le aveva mandato questa icona e in questo spazio in questo loculo della stazione orbitante internazionale tra lo sottolino la parte russa era c'era la bandiera con la falce e martello San Giorgio appunto l'icona che mostrava Gagarin diciamo era un po' chi c'è ecco per dire di nuovo per essere gentili e gentili quindi io credo che nella testa di Putin ci sia appunto questo diciamo tardo sovietismo di livello molto pop più qualche qualche idea dell'occidente che lui ha tinto da film di serie B occidentali da 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 qualche sceneggia e pare che dicono che Putin guardasse la come si chiama The House of Cards e prendendolo prendendolo per buono ovviamente prendendolo come cronaca e e e quel paio di intellettuali e di attori americani o europei che sono andati a trovarlo da Oliver Stone a Steven Seagal credo che diciamo la sua idea della cultura occidentale sia sia un po' questa che si è sovrapposta appunto a una cultura sovietica volevo chiederti invece secondo te quanto possiamo parlare di una cultura sovietica separata o quanto è soltanto una sovrapposizione una patina sulla su una cultura russa molto più radicata è puro puro fattore decorativo e nient'altro non c'è nulla della cultura sovietica secondo me nella Russia d'oggi proprio niente zero la cultura sovietica se prendiamo tu hai un po' mischiato tutto insieme dicendo quell'astronauta che aveva Nicola San Giorgio e falce martello te lo immagini San Giorgio e Nicola nei tempi sovietici ti mettevano in prigione subito quindi lì era tutto pulito tu devi avere solo la falce martello dovevi avere pochissime cose pochissime idee pochissimi campi in cui puoi realizzarti devi essere dritto e pulito l'ideologia sovietica era questa molto confrontevole che cosa sta creando Putin una sfida quotidiana per le persone che vedono dei impulsi dei fattori delle proposte culturali e delle proposte operative che sono tutto il contrario di tutto ripeto tu puoi rubare ma non lo devi far vedere però tutti lo sanno tanto ti rubano tutti in questo mondo la cultura sovietica non avrebbe mai detto questo avrebbe detto che nessuno ruba in questo mondo mai anche questa era una bugia cioè sono due mondi uno futurologico uno moderno modernista che era quello sovietico il mondo pieno di vecchiume di tradizione di voglia di riprodurre prototipi storici per fondamentare per spiegare qualsiasi cosa basta dire che qui c'è stato già non so quando questo parlo di oggi che in questo posto c'è stata già una chiesa allora si costruisce questa chiesa di nuovo in questo posto c'erano non so quali tradizioni in questo posto veniva il fantomatico non so quale principe grande principe non so chi allora si ricostruisce la vecchia capitale della Russia che è vecchia Ladoga si chiamerà lo sentirete ancora questo è un piccolo borgo accanto a San Pietroburgo dove Putin pare che i suoi i suoi avi in qualche modo facevano qualcosa insomma lui conosce questo questo posto si scopre ad un tratto lì la tomba del normanno fondatore dello stato russo principe oleg tutta questa rettorica è rettorica basata sul passato ripeto sulla tradizione quella sovietica era diversa me la ricordo molto bene io avevo parecchi anni quando è finita l'unione sovietica non so se adesso non si capisce neanche quando è finita ma comunque quando ero molto brezhnev avevo 24 anni stavo lavorando ero all'accademia delle scienze al mio posto di lavoro era molto morto brezhnev il mondo era crollato ma tutto era regolare da morire l'unica informazione voi sicuramente sapete qual era per il popolo russo sovietico scusatemi non russo sovietico misto di tutte le nazioni quando era morto brezhnev che per tre giorni noi abbiamo visto il balletto il lago dei cegni nessuno diceva che morto non morto non c'era internet non c'era informazioni tutti andavano però molto tristi e vestiti già un po' di nero perché tre giorni di lago dei cegni vuol dire che qualcosa sta succedendo in questo stato era questa la cultura pochissime cose molto dritte tutti erano incapsulati in questi ruoli in queste famiglie in queste cose tradizionali tutti sapevano dall'inizio della loro vita anche io che cosa ci sarebbe stato io sapevo che a 22 anni non 23 22 prendo la laurea perché alla mia università non si poteva stare fino a 23 anni tu entravi a 17 anni e uscivi a 22 anni e non facevi nessun esame che non facevano gli altri lo stesso giorno con loro poi il resto certo che poi un po' di fortuna io sono stata assunta all'Accademia delle Scienze altri magari a scuola che era considerato peggio però intanto poi fino alla pensione ti arriva donna 55 uomo 60 dopo di che cosa devi morire perché la dorata della vita non era molto molto non lasciava molte speranze ma comunque più o meno ma se non morivi andavi a zappare in gaccia a tenere i nipoti nipoti certo perché altrimenti dove i figli aspettavano questi 55 anni dalla mamma per poter finalmente partorire loro così avevano la mamma che teneva era tutto regolare guardate sono due mondi quando si dice che lui vuole ricostruire l'Unione Sovietica io mi chiedo dove lui pensa di poter trovare tutte le leve culturali ideologiche politiche per costruire di nuovo questa in realtà ammirabile società che io odiavo e odio con tutta la mia forza dell'animo però ammirabile perché non c'erano tutti questi come dire necessità di dire tutte quelle bugie varie che appunto sono da noi riassunti sia da me che da altro scrittore e invece figuriamoci quindi non credete quando vi dicono chi Putin è nel sovietico vuole ricostruire l'Unione Sovietica io questo veramente sono pronta a difendere lei voleva fare una domanda mi scusi aveva arciato la mano ecco sì voglio dire intanto ho trovato estremamente interessante illuminante questa sua spiegazione della diversità della mentalità occidentale e russa russa della stessa identificando nell'occidente questa componente forte della razionalità che si è sedimentata nella cultura nel pensiero nella filosofia diciamo ma che probabilmente ha permeato anche la maniera probabilmente di pensare in contraposizione al sentimentalismo prevalente probabilmente nella mentalità russa e con questo credo che sia per me è stato molto illuminante adesso io sto seguendo un po' queste vicende con tutta la commozione che tutti abbiamo ora mi viene in mente che probabilmente ancora nel periodo forse molto evidente nell'ultimo periodo dell'unione subietica ci furono dei personaggi che diciamo possiamo caratterizzarli con una componente di razionalismo molto importante diciamo mi viene in mente va beh Sagaroff anche Siniaschi non mi metterebbe in contrapposizione magari ad altri sempre nell'unione sovietica che Kuschenko e poi diciamo il grande scrittore che ha fatto cosa? Sonsignitsin sì ecco questi film invece molto ancora caratterizzati dallo spirito russo sentimentalismo e probabilmente passionalità ora però quello che mi viene da dire è che oggi questi personaggi diciamo su cui si poteva o si poteva sperare di contare diciamo che portavano avanti uno spirito diciamo razionale intanto nell'ultimo periodo dell'unione sovietica sono stati esiliati quasi tutti no questi qua però questa diciamo emarginazione è continuata poi nel periodo anche pittiniano a me viene in mente un personaggio come Casparo per esempio che in un certo modo non so come però lui quello è uno scusi un seguace della nuova cronologia mi dispiace lui crede che questa sia la verità mi perdoni semplicemente era il momento sì no ma io per esempio ho letto diciamo trovata che nessuno sta sentendo è nell'ultimo quello che lei sta dicendo quindi se riusciamo a essere brevi perché altrimenti quelli di su non sentono niente per dieci minuti ho capito sì semplicemente vorrei sapere se ci sono se si può sperare in questo spirito diciamo di razionalismo e ci sono dei personaggi oggi su cui si può contare sì la domanda è per lo zoom se ci sono delle persone su cui si può contare che portano lo spirito di razionalismo all'interno della magma emotiva che adesso sta bollendo in Russia in questo periodo gli esempi sarebbero di questo approccio più razionale quello che ha detto il collega erano l'accademico l'accademico Sakharov poi Sinafsky Solzhenitsyn dico questi nomi per chi per chi conosce la storia della Russia e della e chi altro è stato nominato Kasparov e basta ok allora sono tutti assolutamente diversi e non credo che almeno uno di loro forse Solzhenitsyn può essere considerato portatore del pensiero sistematico sistemico sistemico pensiero sistemico che sarebbe lui veramente ha creato delle schede in cui lui ha distribuito il materiale che ha trovato nei racconti dei testimoni e dei sopravvissuti dei lager del gulag e poi ha raccontato con l'ordine cronologico e diciamo ideologico quello che lui voleva raccontare qui io accetto la definizione del pensiero sistemico se noi prendiamo l'accademico Sakharov più assurdo cioè lui è delizioso è una persona assolutamente un esempio appunto del martirio sentimentale in un certo senso ma non credo razionale perché è uno che ha inventato la bomba atomica dopodiché ha deciso che ha fatto ma aveva fatto una cosa brutta e poi lui impersonò comunque questo pentimento in un certo senso è un grande esempio di uno che si è pentito io qui non vedo l'approccio sistemico Kasparov il campione del mondo degli scacchi è talmente esotico che riesce addirittura a sostenere la nuova cronologia cioè quella stessa panzana che vi ho raccontato che dice che Giulio Cesare e Ivan il Terribile sono la stessa persona e dice che c'è di verità in tutto ciò la figura di Sinafsky è più cara di tutti perché lui era amico della nostra famiglia è una persona che io non ho conosciuto direttamente perché ha immigrato però guardate è uno che lottava diciamo lottava sicuramente contro la contro le stupidità sovietiche direi contro questo sistema rigido che vi ho raccontato nei suoi punti dove c'è l'assurdità nei punti dove c'è però in quale modo creando dei romanzi come dire questo insomma di umorismo di va bene lasciamo stare la surreale più o meno grazie surrealismo umorismo motivi che bisogna decifrare quindi la sua lotta era emotiva come si aspettava come il sentimento che si aspettava di creare nel pubblico cioè di disamore verso il sistema sovietico ma non c'era nessuna proposta di cosa si potesse costruire nessuna critica di quali sono gli elementi che non vanno bene e mi dispiace dirlo ma la maggior parte degli scrittori sovietici di dissidio di dissidenza di senso di senso lavoravano in questa stessa maniera cioè loro portavano tutto all'estremo grottesco quello che volevo dire portavano tutta la la realtà raccontata al grottesco ed è per quello che ci piace che ne so da un lato quello piace non so qualsiasi persona che io ho letto conosciuto insomma con cui ho lavorato perché ho portato veramente molti autori russi nelle case editrici italiane c'era sempre il grottesco e poi dipendeva dal punto di vista della casa editrice italiana se lei voleva l'ennesimo grottesco russo o se preferiva qualcos'altro e questo qualcos'altro sapete quanto è difficile trovare un testo russo che non è un'antiotopia un grottesco una satira insomma che lineare è quello che tu dicevi che i romanzi sentimentali secondo te sono pochi finiscono male perché anche loro sempre hanno questo lato un po' pazzoide che alla fine esce fuori e Nastasia Filippo ne butta i soldi nel fuoco e non si capisce perché e questo crea un fascino incredibile perché è una cosa che altre letterature non conoscono come facciamo come facciamo con il non abbiamo microfono niente allora faccia la domanda la ripetiamo io sono velocissima volevo sapere oggi come oggi che la situazione è questa con questa teoria i giovani che seguono un po' internet eccetera riescono a immedesimarsi e a cambiare o no? grazie ti prego fai sia la domanda che la risposta se i giovani possono allora la domanda era se dai giovani che hanno altri strumenti come internet come le lingue eccetera che sono più globalizzati a se dai giovani può venire qualche speranza beh dai giovani la speranza mi pare che sia molto venuta negli ultimi negli ultimi mesi perché noi abbiamo tanto parlato di nuovo di questa russia mistica passionale e votata al martirio i giovani hanno votato con i piedi mi risulta cioè i russi saranno anche molto mistici e molto pervasi e di visioni spirituali però quando Putin li ha chiamati alle armi sono andati alla frontiera e l'hanno attraversata e ci sono ci sono milioni di russi emigrati milioni ci sono centinaia di migliaia di persone che ormai sono fuori da mesi e che si stanno anche organizzando che si stanno facendo delle reti culturali imprenditoriali qualcuno torna indietro anche perché magari non ha i soldi e non riesce ad avere il permesso di soggiorno perché poi l'unione europea non ha fatto alcun tipo di iniziativa per i russi esuli quindi molti si ritrovano appunto in paesi ex sovietici come la Georgia ed Armenia perché non possono entrare in Europa eccetera eccetera però si stanno organizzando ne conosco personalmente diversi che hanno scelto di vivere fuori dalla Russia ce ne sono altri che sono scappati dalla Russia portandosi dietro tutti i pregiudizi imperialisti infatti stanno creando delle tensioni anche in Georgia anche in Armenia anche in Germania o in Lettonia perché molti russi che scappano scappano diciamo dalla leva di Putin conservando però in buona parte delle idee che li rendono spesso diciamo almeno parzialmente dei putiniani soprattutto negli stati che erano ex repubbliche sovietiche questo residuo di colonialismo imperialista viene accolto molto giustamente molto male e questo è uno dei dibattiti che sono in corso tra e in questa generazione di giovani intellettuali sia esuli che non ancora sulla decolonizzazione sulla deperializzazione sull'accettazione dei valori occidentali quali valori occidentali perché poi molti di loro hanno dell'occidente delle idee già molto più chiare perché sono cresciuti comunque in un autoritarismo però anche in una cultura soprattutto nelle grandi città è una cultura globalizzata con gli stessi film gli stessi libri gli stessi programmi universitari che adesso stanno cambiando che adesso stanno rapidamente cambiando infatti secondo me una delle chiavi di lettura di questa di questa guerra è anche la guerra di Putin contro il proprio popolo cioè è sicuramente una chiave generazionale dove una classe dirigente che è impecchiata insieme al suo elettorato e che oggi Putin ha compiuto 70 anni un mese fa l'età media dei dirigenti russi esistono dei centri di ricerca che misurano anche queste cose stanno è aumentata tantissimo e sta raggiungendo dei livelli da epoca brezhneviana credo che siamo parati in età media di 55 56 anni e quindi non c'è ricambio quindi i giovani si sentono anche molto esclusi esclusi dagli ascensori sociali esclusi esclusi dalle dalle prospettive sono comunque buona parte delle persone che hanno già assorbito dei valori diversi se guardiamo perfino i sondaggi che si svolgono in Russia e che si svolgono da istituti demoscopici vicini al governo già potete immaginare cosa significa qual è la veridicità di una sondaggio d'opinione in un paese dove è vietato dire la parola guerra però perfino in questi sondaggi noi vediamo come l'appoggio alla guerra l'appoggio a Putin cala con l'età e raggiunge il minimo nella fascia 18-24 quindi è sicuramente il problema dei giovani è quanto riesco cioè diciamo alla lunga i giovani vincono sempre non è ovvio il problema è che possono vincere quando diventano già quando smettono di essere giovani anche loro e poi la seconda domanda è dove vincono perché per il momento minacciato e incalzato da un avvicendamento generazionale anagrafico Putin ha lanciato una guerra che si appella soprattutto alla parte più anziana della popolazione sia per diciamo i codici ideologici che porta sia perché sono quelli che rischiano meno infatti vediamo dagli stessi sondaggi come nei 55 il sostegno alla guerra diventa maggioritario e negli over 65 c'è un entusiasmo per la guerra perché c'è tutta la sindrome postimperiale e poi non la fanno però la fanno i figli e i nipoti qui di nuovo c'è una dissociazione cognitiva non indifferente e anzi è qualcosa di tragico perché diversi volontari attivisti di ONG che hanno provato per esempio a salvare dei giovani dalla leva quindi quindi aiutandoli ad emigrare convincendoli a nascondersi a cercare di scappare le madri e i padri ma soprattutto le madri insistevano perché i figli andassero agli uffici di reclutamento per non avere guai con lo Stato se non ti presenti poi puoi avere dei guai si ma se mi presentano mi mandano a morire quindi forse un guaio un guaio ben maggiore però queste sono ancora generazioni per le quali il valore dell'obbedienza del conformismo del evitare attriti con le autorità e dell'obbedienza è superiore e superiore appunto all'idea della protesta e della salvezza individuale quindi sicuramente questa tra le tante cose è anche una guerra di Putin contro i suoi stessi giovani dove se non riesce a ribaltare il corso della storia perché nessuno finora c'è riuscito intanto riesce a mandare una generazione di quelli che lo volevano far fuori e come si è visto anche negli anni precedenti alla guerra anche nelle proteste guidate da Alexei Navalny e da altri personaggi del dissenso della nuova generazione del dissenso quindi alla fine è tutto di guadagnato perché se questa generazione non viene uccisa in tricea in Ucraina se scappa e quindi in un modo o in un altro Putin crede di potersi comprare un altro anno due tre non so quanto considerato che in Russia c'è una piramide demografica molto simile a quella a quella europea cioè i giovani sono meno degli anziani perché si fanno meno figli quindi i giovani sono portatori sicuramente di un discorso diverso di cambiamento eccetera ma sono quantitativamente meno degli anziani e in più vanno a votare meno che è poi lo stesso fenomeno che vediamo qua adesso potrebbe dipende molto da come andrà a finire da come finirà il regime di Putin il rischio è che ci sia la famosa prima generazione non picchiata che sognavano ancora i rivoluzionari del russi dell'ottocento diventi anche un'altra generazione di emigrati che si perdono perché attualmente se ne parla poco anche perché non riusciamo a studiare bene questo fenomeno però stiamo parlando di una diaspora russa che in questo momento a occhio e croce è più numerosa di quella del 1917-18 e rischia di diventare di nuovo un'altra Russia fuori che quindi a quel punto ha l'eterno dilemma se integrarsi e voltare le spalle alla Russia diventare un'altra Russia che vive in un vuoto di sradicamento in una nostalgia in un risentimento eccetera una Russia che un giorno tornerà cioè queste sono tutte domande sulle quali oggi non abbiamo una risposta ma se mi permetti qui io sono in disaccordo solo con questo scusa solo con questa idea che i russi si abituano si integrano come tu sai nelle nelle società di tutto il mondo quando sono emigrati benissimo alla condizione che non hanno la casa reale in madrepatria come è stato in questi ultimi vent'anni che qui vivevano moltissime famiglie degli stessi che fabbricavano il regime di Putin che erano non so i propagandisti quelli che facevano nascere il piano di guerra insomma i padri gli uomini stavano lì a lavorare e le donne con i figli in Svizzera in Italia la villa di di Solovio al lago di Como di quel propagandista il peggiore di tutti eccetera quindi come fai a scegliere quale è il peggiore è una sceglione veramente perché me lo dice la stampa italiana che è il peggiore di tutti figurati se posso sapere il rispetto me lo dici tu diciamo che il premio del peggiore è sempre molto difficile da assegnare hai ragione comunque voglio dire finché c'è quella Russia a cui si può vendere la propria viltà come dire la propria meschinità allora non c'è integrazione con l'Occidente ma appena analizziamo veramente dell'immigrazione del dopo la prima rivoluzione russa noi vediamo che tutti questi si sono sciolti nelle società molti in America molti in Francia e basta fanno parte di non succede niente di male secondo me per l'Europa se arrivano tutti questi ragazzi del computer e se decidono produrre qua ma magari ma infatti io sto dicendo sto dicendo da mesi anche ai politici anche che bisognerebbe che bisognerebbe avere un programma per queste persone sia perché vanno aiutate sia perché che restino qui e quindi diventano diciamo contribuiscono allo sviluppo sia che poi ritorno perché se appunto in Russia accade il regime e con chi ricostruisce la nuova Russia con questi cioè non con qualcun altro quindi avere costruire aiutare un'elite russa del futuro potrebbe essere una scommessa strategica detto questo dipende io in questi mesi ho parlato con tantissimi di questi giovani profughi soprattutto che svolgono lavori intellettuali e continuo a parlarci e il dilemma di quanto il problema dell'integrarsi non è continuare a mangiare i cetrioli in salamoia o a parlare russo il problema è quanto tu decidi che anche nelle tue strategie di vita tu proprio volti le spalle alla Russia e i tuoi figli vanno in una scuola dove non imparano il russo dove tu non ti interessi più di Russia oppure quando tu diventi comunque un attivista comunque segui le vicende comunque non so leggi i giornali russi o leggi il New York Times i giornali russi in esilio ben inteso o leggi il New York Times cioè e questo è un dilemma che tutti gli immigrati si pongono soprattutto quelli politici perché da un lato è assolutamente sano voltare le spalle e dire il mondo è grande ed è bello e andiamo ad arricchire altri paesi dall'altro se i migliori se ne vanno esattamente quello che Putin vorrebbe cioè Putin non vede l'ora di rimanere Putin il problema che il putinismo è un sistema di governo piuttosto primitivo quindi è gente che non è in grado di governare i complicati devono semplificare artificialmente la società ridurla alla caserma perché quella è una caserma che in qualche modo male ma riescono a gestire perché con persone evolute colte globalizzate autonome perché si guadagnano da vivere senza chiedere nulla allo Stato persone diverse l'una dall'altra cioè diverse da Putin e diverse l'una dall'altra bisogna mediare bisogna dialogare e mediare che sono due cose che non sono capaci di fare sono capaci di comandare e di spaventare e quindi in realtà più i complicati se ne vanno restano quelli semplici che vuoi per mancanza di cultura vuoi per mancanza di mezzi vuoi per un'abitudine plurisecolare appunto all'obbedienza e a venire terrorizzati si fanno mandare in guerra cioè se avete visto sicuramente avrete visto questi filmati dei mobilitati mandati a combattere in Ucraina cioè sembravano veramente delle bestie portate al macerio cioè non è che ci fosse questo entusiasmo nazionale nazionalista erano persone che si rendevano perfettamente conto anche loro che stavano finendo in un guaio le donne piangevano i bambini piangevano i maschi che le abbracciavano con quest'aria afflitta cioè non c'era una grande una grande animazione patriottica però lì la tradizione in questo caso passatemi il luogo comune tradizione rusa dire cosa dobbiamo fare quelli sono più forti di noi e noi siamo nati per soffrire chi non è nato per soffrire preferisce scappare perché comunque non crede nella possibilità di un'azione comune cioè preferisce salvarsi con la fuga piuttosto che piuttosto che provare ad organizzarsi a scendere in piazza a fare qualcosa adesso scendere in piazza è anche abbastanza inutile diventa un sacrificio un martirio anche stupido volendo però molti di questi non l'hanno mai fatto negli anni precedenti non sono andati a votare oppure hanno votato Putin non sono andati a protestare non hanno voluto guardare eh a quello che stava succedendo rispondendo alla classica frase ah ma mi non interessa la politica e quindi sicuramente c'è un discorso di responsabilità e di senso di colpa che questa generazione oggi sta facendo vediamo cosa ne esce fuori quale sarà la confusione dipenderà ovviamente anche dai tempi dai tempi della nuova emigrazione dipenderà da quando potranno tornare quanto vorranno tornare perché più se ne vanno più si sistemano trovano lavori appunto mandano i figli a scuola eccetera meno torneranno una sola frase la frase di Anna che ha detto quelli che non vogliono soffrire come hai detto o soffrire scappare insomma volevo solo agganciare a questo l'annuncio che tu sei autrice di un libro che è molto bello e che invito tutti voi a consultare insomma interessarvi è un libro su Navalny che è una delle pochissime persone che è andata in direzione opposta piuttosto che scappare tornato si è fatto mettere in trigione un altro martirio e quindi sì le emozioni di nuovo sono molto forti sicuramente in tutti quelli che lo vogliono sostenere vogliono semplicemente pensare a lui perché è l'unica cosa che possiamo fare adesso e Anna ha analizzato tutta questa situazione e dove nascono le persone come Navalny e quindi volevo pubblicitare il suo libro grazie prego grazie agli organizzatori a tutta la parte computer e grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti